Cari ascoltatori, vi saluto calorosamente nel prezioso e santo nome del Signore Gesù Cristo. Anche attraverso l'ultima predicazione molti sono stati benedetti e hanno compreso che dobbiamo ritornare al modello biblico dell'ordine divino della Chiesa. Dopo la purificazione e la santificazione dobbiamo essere messi al servizio di Dio e sperimentare di nuovo ciò che la Chiesa ha sperimentato all'inizio. Il Signore Gesù stesso ha detto, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino ai confini della Terra. La Chiesa cristiana primitiva deve servirci da modello nel suo insegnamento e nella sua pratica. Solo dopo la Pentecoste, dopo l'equipaggiamento con la potenza dall'alto, la Chiesa fu messa al servizio di Dio e il Signore stesso poteva manifestarsi attraverso di essa. In questo periodo si parla dell'impotenza del cristianesimo e si cercano nuovi metodi al posto della vecchia potenza. L'unico modo per arrivarci è attraverso il pentimento, attraverso una vera conversione e un battesimo biblico di fede nel nome di Gesù Cristo. Quando sottomettiamo la nostra volontà alla volontà di Dio, sperimentiamo la nuova nascita che includere non vivere più a noi stessi, ma per colui che è morto e risorto per noi. All'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento tutto era ordinato biblicamente. I centoventi aspettavano concordi nella sala di sopra e ricevettero la promessa del Padre, il riempimento con lo Spirito Santo. Pietro si alzò e dichiarò alla folla che era corsa vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete perché è soltanto la terza ora del giorno Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele avverrà negli ultimi giorni, dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni Qualsiasi cosa accada nella Chiesa del Dio vivente deve avere una base biblica Se qualcuno in questi giorni afferma di aver ricevuto lo Spirito Santo deve essere preparato ad applicare lo standard biblico alla sua esperienza Noi vediamo nel cristianesimo primitivo l'impatto della potenza dello Spirito Santo e le esperienze soprannaturali nella vita dei credenti Non fu soltanto detto ma manifestato che Gesù Cristo aveva preso dimora tra i Suoi attraverso lo Spirito Santo Un grido di angoscia deve sorgere in noi quando ci rendiamo conto che non siamo dove Dio vuole che siamo ma allo stesso tempo la certezza che Lui benedice ora alla fine proprio come ha fatto allora all'inizio Dobbiamo essere un popolo consacrato al Signore Questa consacrazione avviene attraverso l'unzione dello Spirito Santo che è pronta per tutti i credenti che sperimentano Gesù Cristo allo stesso modo Non possiamo essere guidati da ciò che gli uomini hanno da dire al riguardo ma solo da ciò che le scritture insegnano Quando Pietro fu incaricato di predicare il Vangelo ai gentili che fino ad allora erano stati considerati estranei non circoncisi perché la legge e le ordinanze erano state date solo al popolo di Israele Egli giustifica il suo compito missionario verso i gentili in Atti degli Apostoli capitolo 11 dicendo ai fratelli responsabili a Gerusalemme Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro esattamente come su di noi al principio Questo termine al principio è molto importante Nel principio era la parola Nel principio c'erano le benedizioni Nel principio c'era Gesù Cristo come punto centrale di tutto l'evento nella Chiesa del Dio vivente Dobbiamo anche tornare a questo inizio perché Gesù Cristo è l'inizio ed Egli è la fine In Lui tutto è iniziato In Lui tutto è completato Lui è la pietra angolare il primo e l'ultimo che è che era e che verrà Riguarda a questo tema dobbiamo leggere Atti degli Apostoli capitolo 10 per vedere in che modo il Signore era all'opera all'inizio tra i credenti sia ebrei che gentili Nel versetto 44 leggiamo mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio ovunque cada lo Spirito Santo vediamo gli stessi risultati e le stesse benedizioni come all'inizio a Pentecoste a Gerusalemme Dio ha provveduto attraverso la sua parola in un modo così meraviglioso che nessun uomo deve essere ingannato ognuno ha la possibilità di rivolgersi al modello della Sacra Scrittura e non dipendere dalle interpretazioni e dalle opinioni di nessun uomo dobbiamo dare il primo posto alla parola di Dio e mettere alla prova le nostre esperienze di fronte ad essa Pietro non avrebbe mai saputo che lo Spirito Santo era sceso su quelli delle nazioni se non avesse percepito gli stessi effetti soprannaturali oggi così spesso sentiamo la frase fra i credenti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo quando siamo diventati credenti ma la questione è se gli stessi effetti che seguono hanno avuto luogo e se possono mostrare lo stesso risultato come conseguenza di questa esperienza i 120 a Gerusalemme avrebbero potuto dire il quinto giorno fratelli e sorelle abbiamo pregato abbastanza a lungo crediamo di averlo già ricevuto lo stesso si sarebbe potuto dire a Samaria dopo che Filippo aveva predicato e così tanti avevano creduto ma i credenti nel cristianesimo primitivo avevano soggezione della parola di Dio conoscevano le scritture e credevano alle promesse e sperimentavano ciò che Dio aveva promesso loro oggi questa riverenza molto spesso non si trova più le persone sono pie hanno l'apparenza della pietà ma negano la potenza di Dio e tutte le esperienze soprannaturali come avvenivano nel cristianesimo primitivo cari ascoltatori cari fratelli e sorelle crediamo che il Signore stia chiamando una chiesa in questi ultimi giorni che sta vivendo una completa restaurazione di tutto ciò che la parola ci ha promesso la stessa potenza della parola e dello spirito deve essere manifestata ora come all'inizio ci sono molti credenti che si stanno unendo in preghiera chiedendo a Dio di muovere ancora una volta il suo braccio e portare il suo popolo fuori dall'impotenza di volgere ancora una volta il suo volto verso di noi e di benedirci come ha fatto all'inizio abbiamo parlato molto della parola profetica delle predizioni riguardo il nostro tempo ma non basta parlare degli eventi del nostro tempo e di Israele la cosa principale è la preparazione e il compimento della chiesa di Gesù Cristo dobbiamo avere il coraggio di rinunciare a ogni insegnamento e visione non biblica e abbandonarci completamente al Signore e alla sua parola cosicché anche in questo tempo il suo nome possa essere glorificato e le sue promesse adempiute Salomone venne davanti al volto di Dio in preghiera gli fu risposto e la gloria e il fuoco di Dio scesero e la fama di ciò che il Signore fece in quel tempo tra il suo popolo si diffuse su tutta la terra notiamo che la chiesa del Nuovo Testamento ha avuto un'esperienza così straordinaria a Pentecoste nello stesso modo la gloria di Dio scese il fuoco di Dio apparve e lo Spirito Santo scese sui credenti la gloria di Dio e le sue opere si diffondono vicino e lontano noi non ci accontentiamo di predicare queste cose ma vogliamo sperimentare Dio allo stesso modo venire a Gesù Cristo lasciare le nostre vie e i nostri pensieri e servirlo completamente preghiamo Padre Celeste ti ringrazio con tutto il mio cuore che tu rimani lo stesso di eternità in eternità anche oggi tu riempi il tuo popolo della tua gloria ancora oggi tu benedici allo stesso modo di allora sii vicino a tutti coloro che adesso hanno ascoltato la tua parola lo chiedo nel nome di Gesù amin che mi halda la tua parola